Grazie a tutti. Emil, cosa ti ricorda questo posto? Era la prima uscita, il nostro incontro. Quando abbiamo iniziato ad amarci? Che bello, che io ero ancora vergine di montagna. Di montagna, di montagna. Poi chi c'era, a parte anch'io tu? C'erano soltanto noi, di quegli undici lì. E sembrava lontanissima. No, viva lontano, poi dopo ho visto la singe, sembrava dietro lì, e poi un cazzo la singe. Ma qui cazzo la singe. Sempre quando mangio. La cosa mangi? Milone. Forza, grazie. Brutta gente. Bruttissima, da evitare proprio. Questo è un altro, guarda, facciamolo perdere. Lui no, è ancora il nuovo, ma magari possiamo ancora provarlo qualche volta. Un saluto ragazze. La Laura, la Laura, va su, sul resegone a mani nude. Un ginocchio, un ginocchio. Mi chiedeva cos'è questa cimale. Il libanco cos'è? Il ferraio. Ferraro? Portoferraio? Grazie. 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 Grazie.